7 giugno 2021 Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV Questa è la rassegna stampa occhio ai giornali Il commento alla stampa del giorno I giornali sono quelli del lunedì Con gli inserti sportivi Il Corriere Adriatico Il resto del Carlino Buongiorno allora di nuovo E cominciamo con il santo Poi vediamo il tempo C'è qualche cambiamento anche oggi Sant'Antonio Maria Gianelli Il sole è sorto alle 5.27 Tramonterà alle 20.52 Adesso il meteo Andiamo velocemente a vedere Trebimeteo.com Con il riquadro della regione Marche Interessata oggi dalle piogge In particolare centro-sud Pomeriggio Ancora piogge sull'Appennino Sulla fascia collinare Risparmiata un po' la pascia invece costiera Andiamo a vedere domani velocemente Eccola qua La situazione per la mattinata Pomeriggio Ancora piogge nell'entroterra Temporali maceratese fermano E poi la sera con un miglioramento Ma Come sempre Lo faremo per tutta l'estate Adesso andiamo a vedere Com'è il tempo Per chi decide di passare Questa mattinata Questa giornata Al mare Sarà così Non lo so Andiamo e apriamo la finestra Questa mattina Su un'altra spiaggia Questa volta un po' più a sud Rispetto a quella abitualmente Vista fino ad oggi Siamo a Ponte Sasso di Fano Saluto Marco Marco Antonioni Buongiorno Bagnino dei Bagnialda Giusto? Esatto Buongiorno Marco Mastro Giacomi Buongiorno a tutti Innanzitutto Anche qui vedo Uno scenario Come sempre molto bello Questa mattina pioveva Adesso è smesso Mi pare Vero? Guarda Qui da noi Non ha fatto nemmeno una goccia Proprio Si è tutto velato A nord si vede un pochino più scuro Però per oggi le previsioni Danno tutta questa velatura E nient'altro Allora presentiamoci Come al primo appuntamento Buongiorno Sono Mastro Giacomi Titolare dei Bagnialda Insieme a mia moglie Siamo qui In una spiaggia frequentata Da famiglie Ragazzi Siamo qua A divertirci A cercare di far trascorrere Una bella estate A tutti i turisti Sia del posto Che da fuori Quanti ospiti Hai durante l'estate Quanti ombrelloni Noi In precedenza Avevamo 250 ombrelloni Però adesso A causa dell'erosione Abbiamo dovuto togliere Una fila e mezzo Ed è una cosa Abbastanza grave Perché negli ultimi anni Il mare ci ha portato via Una ventina di metri Di spiaggia Sono tutti del posto Arrivano anche ovviamente Dall'entroterra Arriveranno un po' No Sono da fuori Turisti che arrivano Da tutta Italia Oltre a quelli Dall'entroterra E del posto Ecco È passato Una persona adesso Con il cane Addirittura La mascherina In spiaggia Ecco vedete È un po' di gente Che fa un po' di movimento Un po' di passeggiata Sì 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 Ecco Va bene Esatto Allora per oggi Direi di fermarci qui Ci dici un po' Come sarà il tempo oggi Nella giornata di oggi Un po' Oggi sarà sempre velato Le temperature Ho visto che all'incirca Non si prenderanno I 22-23 gradi Cioè per venire al mare Va benissimo Perché non ci si scotta E che si sta bene Oggi essendo lunedì Poi è molto tranquillo Perciò per chi vuole La tranquillità Oggi è il giorno adatto Grazie Marco Buon lavoro A domani allora Grazie al trattato A domani Grazie Allora cominciamo Con la lettura dei giornali Andiamo a vedere Il Corriere Adriatico Edizione di Pesaro Che titola Vaccini Buconero Dei settantenni Corsa al recupero Mentre i giovani Debuttano alla grande Il 12 Ci sarà Lastra Day Nel centro vaccinale Di Gradara Il virus Continua a frenare Nelle marche Da oggi Slitta e coprifuoco Tutti a casa A mezzanotte A centropagina Pesaro Il museo delle moto L'idea di farlo Nella ex Nella sede Dell'ex tribunale Poi il caso Sanzio L'aeroporto Delle marche Il sito Il sito internet Resta a terra Rotte e orari Tutti sballati La guerra La guerra di Piero Così ho salvato I giovani Della roina E poi con il nuovo Eliporto A Urbino Arriverà anche Il papa E a Fano Ferito sotto coperta Il soccorso Scatta dentro La darsena Poi si parla Di viabilità In prima Trave A Fano Più sicura Pista ciclabile Missione al via Asfalti e misure Antitrafico Poi il calcio Con l'eccellenza Fossombrone Atletico Gallo Sognano la serie D Le due pesaresi Infatti Vanno ai playoff Il cardino di Pesaro A centropagina Dai Torniamo a fare festa Primo giorno Di vaccini Per i ragazzi Basta paura Qui il museo Invece nazionale Delle moto E la proposta Di Ricci Che rilancia La sede Nel vecchio tribunale Progetto proposto Anche al ministro Franceschini Poi un pesarese Rimini Si lava con l'alcol E accende la sigaretta Un clochard Prende fuoco Appiobbico Sulla cava Esposto in procura Sugli atti Negati E poi Dosi Nei luoghi Dosi di vaccino Nei luoghi di lavoro Saltamartini Ammette Dice le aziende Sono sparite Sotto invece Delfino Niente olimpiadi I tifosi Resta con noi WL Carlos Intanto si gode La spiaggia pesarese Mentre a Barcellona Vale Altra domenica no E ora Le nubi sul futuro Cade Mentre era Tredicesimo Allora Vax Days Maturandi In fila 8.000 Su 13.600 Un dato importante Il Covid Frenna ancora In 5 giorni Di Vax Days Così sono stati chiamati Sono stati 8.000 Maturandi Delle marche Quelli che devono fare L'esame di maturità Che hanno voluto Procedere alla profilassia Anti-Covid Prima dell'esame di Stato 8.000 Su 13.600 Distribuiti negli hub Vaccinali Senza necessità Di procedere La prenotazione Un'operazione Un'operazione Che si è conclusa Ieri Domenica Alle 18.30 Mentre ci si sta avviando Alla vaccinazione Di un milione Di marchigiani Scrive Letizia Francesconi Sul Corriere Adriatico Di oggi Se i rifornimenti Continueranno a giungere Con regolarità Ha spiegato L'assessore regionale Alla sanità Filippo Saltamartini Entro la fine Di questo mese Inizio luglio Avremo pure Un milione Di persone vaccinate Nelle marche Rispetto Ad una platea Di soggetti Vaccinabili Di circa 1.250.000 Cittadini Mentre ieri Due le vittime Per il virus Sono una donna E un uomo Con patologie pregresse Mentre in un mese Le quarantene In ambito scolastico Sono diminuite Del 77,47% Ma Scusate Questo era L'articolo Di Maria Teresa Bianciardi Invece Letizia Francesconi Si occupa Di quest'altro Articolo Di quest'altra vicenda Legata sempre ai vaccini Di questo buco nero Dei settantenni Allora Corsa al recupero I medici di base Dicono È difficile Individuare Questi settantenni Che non Sono stati ancora Vaccinati Ma quelli Che sono stati Rintrecciati Che siamo riusciti A rintrecciare Hanno già detto Di no Intanto Il 12 giugno Sarà Astradei Cioè E questo Verrà a gradare Nel lab di gradare Cioè Non sarà necessaria La prenotazione Ci sono questi vaccini Astradei Di questa marca Che non si riesce A smaltire Hanno una scadenza Hanno una scadenza Per cui Si fanno Queste giornate In cui Non è necessario Prenotarsi Ma è sempre bene Farsi visitare Comunque Parlare col proprio medico Per dirgli Se è il caso O meno Di fare questo tipo Di vaccino Ma La verifica Tornando a questo Buco Di settantenni Che Non si È fatto Vaccinare Quindi non si sono Prenotati Spontaneamente La verifica Dei dati Dei pazienti Mancanti Resta complicata Per molti di noi Noi chi? Medici di medicina generale Si dovrebbe accedere Infatti ad un portale Che è quello Del SIRT Di Asur Marche E individuare Quanti fra questi Settantenni In elenco Sono nostri pazienti La collega Stefania Maggi Della mia stessa Equip Dice questo medico Ha recuperato Proprio dal portale I nominativi Di alcuni suoi pazienti Che hanno tra i 70 E 79 anni E una quindicina Di loro Contattati telefonicamente Hanno rifiutato L'opportunità A vaccinarsi Insomma Probabilmente Sulla base Dei numeri totali Della platea Ancora mancante E che sono Stati resi noti Dal servizio Salute della regione Gli over 70 Di Pesaro Che non si sono Prenotati O non si sono presentati Nella sede vaccinale Probabilmente Preferiscono Non sottoporsi Al vaccino Questo dunque È un altro Spaccato Di quello che È appunto La La situazione Vaccinale Ma Se da una parte I settantenni Hanno deciso Una parte Di questi settantenni Ma così come I quarantenni E tutti gli altri Hanno deciso Non vaccinassi I giovani Con il miraggio Delle vacanze Il divertimento La discoteca Insomma Il tornare A fare Baldoria Si vaccinano Ad occhi chiusi Senza se Senza ma E senza problemi Eccoli qua Vaccinati I primi Quattordicenni Ed intere famiglie Vogliamo tornare A ridere Tutti insieme Gruppi di ragazzini Con i genitori A seguito Obbligatoriamente Presenti Per dare anche Il consenso Ovviamente Hanno affollato Ieri l'ex Ristò Il centro vaccinale Di Pesaro Tra loro c'era anche Un nostro giovane cronista Vedete qua Nicola Smasetti Che ha firmato Questo articolo Quindi ha intervistato Anche le persone Giovani Presenti ieri Al Ristò E Che ha ricevuto La dose Pfizer Il cronista Dopo aver prenotato Appena due giorni fa Allora Tra Se chiedete Ad un giovane Perché ti vaccini Le risposte sono Voglio tornare a divertirmi E la cosa più sicura Per farlo È il vaccino Oppure Sono contenta Ora vorrei fare Una vacanza Con la mia famiglia Tutta vaccinata E andare in giro Voglio godermi l'estate E un altro ancora Andando al mare A Marotta Ecco Quindi questa è un po' La situazione E come vedete I giovani Che giustamente Si sentono Forti E hanno Tutta una vita davanti Senza problemi Si buttano Intanto C'è un altro caso Quello del Sempre a proposito Di vaccini Un caso che riguarda Le dosi Da somministrare Nelle aziende Si era parlato Qualche mese fa Sembrava che gli imprenditori Gli industriali Fossero pronti A sborsare anche soldi Per allestire Degli hub Vaccinali All'interno Delle aziende Ora in realtà Saltamartini Ammette Roberto Damiani Del Carlino Qui non si è più sentito nessuno Sono spariti tutti Ora evidentemente Hanno visto Che la vaccinazione Va avanti Comunque Con lo Stato Che sta organizzando E anche abbastanza Speditamente Tutto quanto Quindi Giustamente hanno detto Perché dobbiamo andare A spendere soldi Per allestire Una struttura Con un medico Che poi si deve assumere La responsabilità Di fare Lo screening Gli infermieri Professionali Che devono fare Poi la puntura Le spese Lo ricordiamo Sono tutte a carico Delle ditte E quindi E quindi Forse Anzi sicuramente Si sono tirati indietro Lui però Saltamartini L'assessore dice Non mi sorprenderei Che qualche medico Possa prendere anche 50 euro a persona Da vaccinare Questo può aver raffreddato Gli entusiasmi Delle ditte Oppure C'è una seconda ipotesi Gli industriali Hanno visto L'efficienza Della struttura sanitaria E si sono reso conto Resi conto Di non poter fare meglio Ma io credo Che sia Sia uno Che l'altro Perché insomma Le spese Sono veramente Importanti E comunque Fondamentalmente Rispetto all'inizio Quando sembrava Che ci fosse Un po' più di caos Dal punto di vista Statale Quindi Qualcuno ha detto Meglio Mettere in campo I privati In realtà Adesso le cose Stanno andando Speditamente Quindi giustamente Il privato Lasciamo fare Allo Stato Mentre Da oggi Il coprifuoco A mezzanotte Quindi L'abbiamo già detto Ne abbiamo parlato Ne parlano un po' tutti Da oggi Scatta in tutta Italia Il coprifuoco Alla mezzanotte Un'ora in più Che cambierà molto Nei giorni d'estate Prossimo passaggio importante Sarà però il 21 giugno Quando anche le marche Diventeranno bianche Con relativo addio Al coprifuoco Ieri intanto Sono stati 75 I positivi al covid Rilevati nell'ultima giornata E quindi Insomma Stanno scendendo Ma ancora Insomma Si può fare meglio Intanto A proposito del coprifuoco Il Corriere Adriatico Ricorda che Sì A casa a mezzanotte Ma C'è questa bufera Sulle discoteche Che sono ancora chiuse Domani c'è un incontro Al Ministero Dopo la protesta Dei gestori Mentre Secondo rapporto Dell'Istituto Superiore di Sanità Sulle somministrazioni Ci dice Questo studio Che la protezione Dal virus C'è anche dopo Quattro mesi Dalla prima dose Le altre notizie Sui giornali di questa mattina Pagina 19 Del Corriere Adriatico Si ferisce Cadendo sotto coperta Quindi siamo Al porto di Fano Soccorso impegnativo In barca Un intervento Del 118 Dei vigili Su un 15 metri Ormeggiato Sulla darsena turistica Un 64enne Che è stato poi portato In ospedale Mentre Sulla pagina 2 Di Ancona Un colpo di pistola Perché il cane Del vicino Abbaia È successo Nel quartiere Di Borgorodi Ad Ancona Il novantenne Questo anziano Era esasperato Da questo cane Dall'animale Un bossolo Della sua arma È stato trovato Nel terrazzo Il pensionato Ha usato Una replica Salve Del modello Beretta Ed è stato Denunciato A Iesi invece C'è chi si diverte A sparare Con il fucile In giardino Nei guai Un ultra settantenne A cui i carabinieri Hanno anche Sequestrato Armi e munizioni Mentre sempre Ad Ancona Ma non ho la pagina Non ve l'ho Selezionata Però Ci sono le notizie Anche di Quattro bande Che si sono In piazza del Papa Date Se se le sono date Pare di santa ragione Insomma Questi sono un po' Gli effetti Del lockdown Così dicono Gli esperti Dopo aver tenuto Chiusi in casa Tutti questi mesi I ragazzi Insomma adesso Si sfogano Un po' così A Fano invece Dal Corriere Adriatico Il quartiere Trave Sicura Trave Sicura Nuova ciclabile Via e lavori Per il tratto di pista In via della giustizia Ampliamento del parcheggio Dei camper Continua la lotta Alle buche Prevista l'asfaltatura Su tutta la carreggiata Anche in via della Fornace Mentre domani L'addio a Paolo Vicini Domani mattina Alle 10.30 Nella Basilica di San Paterniano Il funerale di Paolo Vicini Che tutti lo ricordano Insomma Soprattutto per il suo impegno Oltre che come imprenditore Ovviamente Ma per il suo impegno Anche nell'ente carnevalesca di Fano Poi passaggi festival Chi vuole esserci Può prenotare Tantissimi gli appuntamenti Divisi tra Centro Storico e Lungomare Momenti dedicati anche ai più piccoli Alla Mediateca di Fano Alla Memo Da oggi si aprono dunque Le prenotazioni Per gli eventi di passaggi festival Che lo ricordiamo Il programma dal 18-25 giugno È un'edizione più lunga E ricca rispetto agli anni scorsi Otto giorni tra Centro e Lungomare Dal 9 giugno sono aperte anche le prenotazioni Per le iniziative riservate ai più piccoli Poi a Urbino invece Ieri alle capute Sulla statale 73 bis Una moto in curva Finisce contro il muro I residenti Basta con le corse Un altro incidente Ancora una volta una moto E' uscita di strada Andando a sbattere contro Un muretto laterale Ora speriamo che a questo motociclista Vada tutto bene Sicuramente sarà così Però per chi gira per le strade E viaggia per queste strade Come a volte spesso faccio anche io Insomma questi motociclisti Dovrebbero capire che non sono in un circuito Ma sono in una strada pubblica Quindi dovrebbero andare come giusto che sia Quindi non fare il MotoGP Senzatetto Un senzatetto che prende fuoco con la sigaretta È accaduto ieri a Rimini Si tratta di un 56enne pesarese Che chiedeva la carità fuori da una chiesa Si era lavato le mani con l'alcol Poi ha acceso la sigaretta Gli è caduta la sigaretta che teneva tra le dita Ed è bastato un attimo Perché i suoi abiti prendessero fuoco Adesso è ricoverato in gravi condizioni Questo uomo di 56 anni Originario di Pesaro Ma di fatto senza fissa dimora L'hanno portato al centro gandestionati di Cesena Per le profonde bruciature che ha riportato Ma la sua vita non sarebbe in pericolo Poi scrisse a Draghi Fammi sposare l'infermiera Corona Il suo sogno Le nozze di Chantale Francesco Entrambi impegnati sul fronte Covid Loro dicono il Premier Non mi ha mai risposto Ma evidentemente era impegnato in altre cose Vasco è detenuti Io so, tenete duro Quando il rocker finì a Rocca Costanza È un ricordo, anzi È un ricordo che parte però da un videomessaggio Un videomessaggio che Vasco Rossi Ha lanciato in questi giorni In occasione della maratona oratoria Organizzata dalla Camera Penale di Bologna E Vasco dice Capisco la rabbia e la tristezza che provate Riferendosi ai carcerati Fate come me Cercate di dare un senso A quell'esperienza Anche se quell'esperienza un senso non ce l'ha Ha detto Vasco Citando una delle sue canzoni più famose E ricordando anche i suoi giorni di reclusione a Pesaro Nell'allora carcere di Rocca Costanza Era il 22 aprile del 1984 Scrive già Luca Murgia L'ordine di cattura fu firmato dal sostituto procuratore Vincenzo D'Aprile Vasco era stato tirato in ballo da un testimone Aveva 32 anni E rimase in carcere 22 giorni 5 in isolamento con l'accusa di detenzione di droga 26 grammi di cocaina E di spaccio Andiamo nella pagina di Urbino Pagina 17 del Corriere Adriatico di oggi L'eliporto farà atterrare il Papa Il progetto preliminare si scalda E la struttura servirà per uso civile e sanitario Michelli dice Pericolo per Piantana Cose da non credere C'è la sinistra che è contraria a questo eliporto Eliporto che Così come dice il titolo Potrebbe servire anche per far atterrare il Papa Chiaramente così Il Papa perché dovrebbe venire ad Urbino? Beh, perché intanto C'è un santuario Che è quello del Sacro Cuore di Castaccolo Di Urbino Che si sta ultimando E quindi potrebbe Potrebbe per esempio Il prossimo anno O quando vorrà lui Venire a visitarlo E dunque spostandosi Forse Tutto condizionale Tutto buttato a lista L'elicottero potrebbe usare l'eliporto Ha tirato in ballo il Papa Ma c'entra poco o nulla Insomma Però detto questo Può essere utilizzato per usi civili Questo sicuramente Per la sanità Per spostarsi Atterrare Prendere i pazienti Portarli eccetera Alla sinistra però è contraria Eccetera eccetera Va bene Questa è la notizia da Urbino Mentre da Piobbico Cavo un esposto Sugli atti negati Piobbico Lui l'agriturismo La caprareccia Dopo la polemica Sull'attività estrattiva Mette il comune Nel mirino E sotto invece Addio alla ristoratrice Rosa Sani La sua cometa Volava alto Aveva 93 anni La sua eredità Gastronomica Raccolta dalle figlie E dai nipoti È morta lunedì 24 maggio A 93 anni Una delle protagoniste Più apprezzate Della ristorazione Ducale Urbinate di adozione Ha gestito Dal lontano 1970 Per 30 anni La cometa In via guido Da Montefeltro Vicino all'ospedale Punto di ritrovo Di una clientela Affezionata E di passaggio Amante di una cucina Essenzialmente legata Al territorio Mentre da Senigallia Vandali in spiaggia Volò nei lettini Auto danneggiate Sul lungomare Controlli dei carabinieri Multe per violazione Del coprifuoco E guida In stato di ebrezza Questo è un articolo Di Sabrina Marinelli Che fa il punto Di quello che è stato Nello weekend A Ostra Un ragazzo Si è schiantato Con l'auto Su un guardrail Ed è tornato a casa A piedi Mentre il Cernin Piange Lo storico pescatore Luciano Luciano Sebastianelli Aveva 66 anni Da tempo Lottava contro Una malattia Che sabato Purtroppo Non gli ha lasciato scampo I funerali Si svolgeranno Oggi alle 10 Nella parrocchia Del Cernin Seguirà la tumulazione Del cimitero Di Montignano Sempre dalla pagina Di Senigallia Fiamme a ridosso Delle mura Dell'ospedale I vigili del fuoco Sono intervenuti Nel primo pomeriggio Di ieri In via Camposanto Vecchio Per un incendio a ridosso Delle mura Appunto Dell'ospedale Lo sport invece Andiamo velocemente A vedere Due pagine di sport La prima Riguarda la Vigor Senigallia E il Fossombrone La Vigor Che in casa Ha perso 2-1 Contro Un fortissimo Fossombrone Che adesso è primo I metaurensi Chiudono al comando Ora la semifinale Playoff Sarà contro L'atletico Ascoli L'altra pagina Invece Riguarda Valentino Rossi Quindi la MotoGP Così non vale più Questo il titolo Un'altra domenica nera Barcellona vince Oliviera su KTM Ducati beffate Rossi cade Mentre tredicesimo E la decisione Sul suo futuro Ora si fa Difficilissima Insomma Lui dice Io voglio andare avanti Ma a questo punto Parlano i risultati Noi ci fermiamo qui Perché la rassegna È finita L'appuntamento torna Come sempre domani mattina Alle 7 Vi ricordo invece Questa sera Alle 20.30 Il telegiornale Occhio della Notizia Come sempre Grazie anche per tutte Le vostre segnalazioni La collaborazione Che ogni giorno Avete con noi Della redazione Attraverso il numero Di telefono Che vedete qui Sul televisore 338 4968 250 Grazie di cuore Perché le vostre Segnalazioni Sono importanti I vostri occhi Sono le nostre prime Telecamere Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti Grazie per averci seguito